La raccolta porta a porta dei rifiuti che nel 2019 è stata estesa a Porto Garibaldi potrebbe interessare anche i lì di nord nel 2020. Ad anticiparlo è il direttore generale di Clara SPA, Raffaele Alessandri. La scelta che abbiamo compiuto insieme all'amministrazione comunale di attivare il percorso della trasformazione del servizio da stradale a porta a porta da Porto Garibaldi è stata proprio una scelta che era dovuta alla configurazione di Porto Garibaldi. Porto Garibaldi ha circa 5.000 utenti, 2.500 utenti residenti e 2.500 utenti non residenti, diciamo turisti, quindi seconde case, con circa 300 utenze non domestiche che aprono per l'80% durante il periodo estivo. Questo è stato il progetto sperimentale che ci ha consentito durante il 2019 di avere i primi dati su un problema che è quello di affrontare la raccolta porta a porta, quindi un servizio che viene calibrato su appuntamento, con la presenza di turisti che naturalmente sviluppano la loro presenza sul territorio dei lidi comacchiesi prevalentemente nel fine settimana e prevalentemente nel periodo agostano. Abbiamo avuto delle buone risposte, specialmente dall'utenza non domestica, abbiamo trovato alcune soluzioni secondo noi che possono mettere d'accordo la necessità di avere una qualità del rifiuto conferito con una flessibilità da parte dell'utente di poter gestire questo tipo di servizio, specialmente in un territorio turistico come quello di Porto Garibaldi. Abbiamo affrontato alcune difficoltà, alcune criticità che ci hanno dato anche risposte su alcuni elementi che stimavamo potevano essere particolarmente delicati. Il progetto secondo me ha dato dei buonissimi risultati, ipotizziamo di poterlo ampliare a partire probabilmente già dal 2020 sui lidi nord, quindi scacchi pomposa e nazioni, visto che Volano è già stato interessato a uno servizio di raccolta porta a porta e poi per poterlo estendere nella zona più complicata, lì sì veramente molto complicata dal punto di vista di logistica, che è quella dei lidi sud, Lido degli Estensi e Spina.